Alzheimer a che punto stiamo? 20 anni di studi e ancora tante difficoltà a contrastare questa malattia. Oggi ne parliamo con il professor Giovanni Capobianco, primario geriatria del sante Eugenio di Roma. Buongiorno professore. Buongiorno. Allora cerchiamo di capire subito che cos'è l'Alzheimer. È una malattia degenerativa in cui le cellule cerebrali muoiono con una velocità e in un numero maggiore rispetto alla popolazione generale per motivi sconosciuti ma in cui il meccanismo patogenetico cioè ciò che succede dopo una causa sconosciuta lo conosciamo. È l'accumulo di un materiale che determina la morte cellulare che è l'amiloide da un lato e la proteina tau dall'altra. Professore a che cosa dobbiamo fare attenzione se accanto a noi c'è una parente, una persona e temiamo che questa persona possa avere l'Alzheimer o se noi vediamo nella nostra persona qualche rallentamento che ci preoccupa. Il disturbo della memoria è il disturbo più comune che colpisce le persone anziane ma non necessariamente rappresenta una malattia. Quando il disturbo della memoria è progressivo, è continuato e tende ad aggravarsi, quello della memoria, quello dell'orientamento temporo-spaziale oppure il disturbo del linguaggio. Quando queste cose diventano progressive e sono segnalate non solo dalla persona che ne è colpita ma dai familiari che ci sono attorno, quello è un elemento di attenzione o di preoccupazione. E come si fa la diagnosi di questa malattia? L'elemento clinico, questo che ci siamo raccontati testè, è molto importante, cioè sapere che cosa sta succedendo in una persona nell'ultimo anno. Poi ci sono dei test neuropsicologici che vengono, che possono essere fatti o delle indagini strumentali, oggi molto sofisticate, alcune sono diciamo strutturali, vanno a vedere la grandezza dei centri che possono essere colpiti dalla malattia di Alzheimer, per esempio l'ippocampo o il lobo temporale. Altre indagini più sofisticate ancora sono quelle che misurano il flusso all'interno del cervello o possono essere utilizzati di traccianti che vengono captati proprio da quel materiale come l'amiloide che si accumula in senso patologico all'interno del cervello. Quale specialista fa questo tipo di diagnosi? Perché le persone non sanno dove andare a volte? Le tre specialistiche che normalmente vengono coinvolte nella diagnosi nei malati che possono essere osservati sono lo psichiatra, il neurologo e il geriatra, in particolare nelle fasce di età più avanzate, in genere negli ultra 75 anni. Professore, a che punto è la ricerca in generale e la ricerca sui farmaci? Per un certo periodo di tempo abbiamo dovuto constatare purtroppo un rallentamento degli impegni della ricerca in questo settore. Negli ultimi anni invece c'è stata una ripresa. Riguardo ai farmaci, in particolare oggi gli anticorpi monoclonali, ci sono delle sostanze che sono state utilizzate ed approvate negli Stati Uniti, non ancora in Europa o nel nostro paese, che rappresentano al di là dell'utilità che in questo momento hanno potuto dimostrare negli studi, quantomeno la testimonianza che la ricerca è ricominciata in questo settore e questo è molto importante. Dunque un'importante via per studiare la malattia perché questi nuovi farmaci hanno anche delle controindicazioni? Possono produrre degli effetti collaterali, quelli più moderni, più ancora non in commercio in Italia. Ce ne sono altri invece che vengono utilizzati da molti anni per rallentare o fermare la malattia per un certo periodo. Non abbiamo ancora quello che si chiama il magic bullet, il proiettile magico, ma la ricerca potrà portarci nei prossimi anni a dei risultati promettenti. Promettenti, allora bene. Ma intanto è possibile rallentare la malattia? Direi di sì. Se consideriamo il farmaco non l'unico strumento. Noi sappiamo che l'attività fisica nelle persone che hanno un declino cognitivo, un disturbo cognitivo lieve perché quando parliamo di malattia di Alzheimer non parliamo di una malattia che insorge in un giorno, ma all'inizio, per tutti noi il patrimonio cognitivo può essere conservato dall'attività fisica, dall'attività cognitiva da mantenere le nostre relazioni e soprattutto combattere, ci tengo a dirlo, la solitudine. La malattia di Alzheimer, il disturbo cognitivo porta spesso a uno stigma, all'allontanamento. Noi dobbiamo combattere questo aspetto. Dunque è fondamentale la presenza di amici, parenti, le persone non vanno lasciate sole anche se sembra che si allontanino da noi perché non riconoscono, non hanno più i ricordi, a volte non ci riconoscono. Questo è l'errore che può essere più frequente, al contrario invece bisogna che queste persone stiano all'interno della comunità alle quali appartengono. Questo rallenta fortemente la malattia. Cosa serve di altro ai pazienti? Dunque una struttura dove poter essere seguiti con attività dedicate come accennava? Alcuni centri come i centri diurni Alzheimer in alcune fasi di malattia rappresentano le strutture, i luoghi di cura per prendersi carico di pazienti che sono in una determinata fase di malattia e che possono all'interno di questi centri essere stimolati. Ma direi che un po' tutti i luoghi di cura che accolgono le persone anziane dovrebbero essere connotati da un cambiamento. Lei è primario di un grande centro, di un grande ospedale dove coordina la geriatria. Cosa servirebbe nel sistema sanitario nazionale e cosa dovrebbe fare di più il sistema sanitario nazionale per sostenere questi pazienti? Noi sappiamo che un milione di famiglie in questo momento nel nostro paese sperimentano la presenza di un malato con disturbi cognitivi o un malato con demenza a casa e queste persone attraversano tutti i luoghi di cura, ospedale, residenze, casa. Quello che io credo è che ci voglia la cultura del diritto. Queste persone sono nelle chirurgie, sono nelle ortopedie, sono in urologia, non sono solo in pediatria e in ginecologia ma in tutti gli altri luoghi di cura sono presenti. Noi dobbiamo avere la consapevolezza di offrire a queste persone, come anche altre categorie, dei luoghi di cura friendly, cioè sicuri, amichevoli. A cominciare dal pronto soccorso, dove spesso i malati di Alzheimer possono per altre patologie essere ricoverati. Avere questa consapevolezza significa fare in modo che un paese civile risponda alle esigenze dei più fragili dei suoi cittadini. Dunque lei in pratica ci dice che come nelle pediatrie si cerca di non lasciare solo il bambino, in realtà nei reparti dove si ospitano i pazienti con Alzheimer bisognerebbe proprio stare accanto a loro, permettere alle famiglie di comunicare, dare delle possibilità in più rispetto a quelle che ci sono oggi. È assolutamente vero quello che lei dice, senza che questo rappresenti solo un aspetto, diciamo così, misericordioso, diciamo di prossimità, ma è un aspetto assolutamente utile. Talvolta il ricovero ospedaliero è caratterizzato dallo stato confusionale, dall'agitazione. I pazienti con Alzheimer, con demenza, tendono ad avere una difficoltà nel momento in cui sono in luoghi non familiari. Quello che noi dobbiamo fare è rendere gli ospedali, le residenze, le case lo sono prima di tutto, ma soprattutto i luoghi di cura esterno e al domicilio come dei luoghi amichevoli nel momento in cui c'è il momento di maggiore pericolo per un anziano, che è quello di essere ricoverato per un possibile problema clinico che può far perdere l'autosufficienza o la vita. Benissimo, ringraziamo il professor Capobianco per averci spiegato queste cose sull'Alzheimer. Arrivederci, grazie. Grazie a voi. Arrivederci.